... ... ... Sono Plagio Torrizzotto, che desidera? ... Viene questi picciotti da UGT di San Elisabetta, ho organizzato un genevolo. UGT di San Elisabetta? E che buono di me? Eh, sì, bravi picciotti, mi dissero che vogliono fare un film in capo di te, è per questo che sono venuto. Eh, Plagio Torrizzotto, film della scuola scemeca... Nooo, ma affronto a fare il mio vero a televisione. Cristotto, tu, segretario della Camera del Lavoro, esponente di spicco del Partito Socialista e della CGL, tu che verrà ammazzato dalla mafia il 10 marzo del 48, ti affronto alla televisione. Nooo, tanto saccio con bene nulla, ai cristiani ci stufano questi film, metteteci a fare il peccone. Oh, ma tu sei pazzo, a fare il peccone già finissimo! Comunque, vedi di esserci, tanto mentre si abbetta, non c'è niente da fare, e portiamo un'altra patatina, qualcosa di vivere, vino o birra che sia, piuttosto ti portano amicità, se no li veniamo appiginando con la forza, al campo, a casa, ne veniamo alle 8 alle 8 e mezza, la sezione davanti a Calociapoli.